Le giro subito le domande ai nostri colleghi, iniziando da Mario Ferrantino qui in tribuna alla Rechi. Un'espulsione e un palo che ancora gridano vendetta. Grande carattere dei ragazzi, oggi in dieci per tutto il secondo tempo. Un punto che ci dà sicurezza o possiamo dire due punti persi? E poi, post-critum, che partita Anzulas? Sì, sicuramente prendiamo per buono questo punto per come si era messa poi la gara, giocando all'indieci tutto il secondo tempo contro una squadra che lotta per il vertice. Quindi prendiamo assolutamente per buono e pensiamo già al martedì che c'è una gara importante da fare e noi dobbiamo già pensare alla prossima. Per quanto riguarda Anzulas, io non parlo mai dei singoli, ma è giusto che sono contento per il ragazzo perché spesso è andato in tribuna, sapeva, è arrivato l'ultimo a gennaio. Ma i complimenti li rivolgo al nostro direttore che ha sempre delle intuizioni importanti e quindi davvero condivido con lui questa prestazione del ragazzo che per noi comunque non è una sorpresa. Alessandro Storino, mister, erano queste le risposte che cercava dalla squadra? L'unità di intenti della quale ha parlato nel pre-partita? Sì, sì, ma la squadra c'è, ha ritrovato il gioco che è una cosa importante. Forse ho cercato di dare maggiore serenità alla squadra che era quello che loro cercavano in me e forse ho trasmesso un po' di tensione negli ultimi periodi. Quindi complimenti davvero ai ragazzi per aver ritrovato il gioco e adesso, ripeto, tutti insieme, tutto l'ambiente, dobbiamo pensare a questa rincorsa perché come qualcuno ha rimarcato la luce in fondo al tunnel è lontana quindi voglio arrivare alla fine e vedere questa luce. Pier Giorgio Giorno, mister, le espulsioni stanno diventando una vera piaga per il Cosenza forse 11 contro 11 si poteva anche vincere vista la prestazione dove è emerso un sontuoso Anzulas, davvero una piacevole sorpresa anche Onorio Ferraro si concentra su Anzulas dice pensa di aver trovato l'uomo giusto in difesa per questo rush finale? Ma io ho tutti i giocatori importanti in difesa, ripeto, quindi ho una rosa che sono orgoglioso di loro e devono stare sul pezzo, perché dobbiamo recuperare un po' le forze per martedì e dobbiamo andare avanti tutti uniti con questo entusiasmo nel giocare la palla anche in questi momenti, dobbiamo anzi ancora di più uscirne con il gioco, con la cattiveria agonistica e con questa unione che questo gruppo si porta dietro e ci porterà lontano Davide Franceschiello, grande prova dei Rosso e Blu che hanno giocato contro 12 uomini complimenti Roberto, è tornato il tuo Cosenza Sì, forse, ripeto, sono riuscito in questo ultimo periodo ho fatto un esame di coscienza con me stesso ho cercato un po' di dargli meno tensioni forse ho trasmesso un po' di tensioni quindi si era un po' perso il gioco, l'abbiamo ritrovato è quello su ciò che stiamo lavorando molto ma oltre a questo, secondo me, adesso è arrivato il momento davvero di stare tutti uniti, come ho detto nella precedente conferenza stampa l'ambiente Cosenza è forte è forte quando si ricompatte sono sicuro che in queste ultime dieci gare ci state tutti vicino e a proposito di questo non sono polemico mai e non lo sono mai stato però oggi è capitato un episodio che non mi è piaciuto da fuori, degli avversari ovviamente io stimo gli avversari sempre non mi sono mai permesso di rivolgermi a un giocatore avversario e non voglio che nessun altro degli avversari si rivolge a un mio giocatore perché i miei calciatori, i calciatori del Cosenza Calcio non si toccano quindi questa è una cosa importante non voglio fare polemica però ci tengo pubblicamente a dirlo Francesco Donato le chiede come mai ha sostituito Tremolata e non una delle punte dopo l'espulsione sì, perché volevo comunque attaccare bene la profondità e dare pensieri nonostante ero un in meno comunque dare pensieri agli avversari io non voglio dare mai il sentore di abbassarmi e non pungere più gli avversari devono sapere noi anche in dieci possiamo sempre far male ed è quello che è stato fatto un grosso lavoro carretta di sacrificio a un certo punto si è messo mezzala e ripartiva ha lavorato da centrocampista e quindi ha fatto un lavoro di sacrificio grande è un calciatore ritrovato per noi è un calciatore importante in questo rasci finale che ci invidiano tutti e noi Mirko e il suo cuore ce lo teniamo stretto Francesco Liverio martedì arriva il Vicenza nuovamente sarei costretto a fare la conta tra infortuni e squalifiche quanto pesa in un momento fondamentale del campionato? ma adesso per quelli che siamo dobbiamo pensare a stringerci tutti intorno ad ognuno di noi a fare quadrato e preparare bene la gara col Vicenza sarà una gara sicuramente di sofferenza dobbiamo saper soffrire dobbiamo lottare col coltello tra i denti Fabio Mandato finalmente un ottimo cosenza come sta Bakogu? Bakogu ha avuto questo risentimento credo un affaticamento dobbiamo valutarlo aveva iniziato bene ho preferito metterlo dall'inizio proprio per evitare magari in corso che poteva subentrare un qualcosa del genere anche perché in settimana è stato bene ha spinto molto quindi quando un giocatore spinge vuol dire che oggi magari ha avuto questo risentimento è perché il ragazzo si sentiva bene e ha spinto quindi è un buon segnale adesso valutiamo bene le sue condizioni deve stare tranquillo perché anche quando l'avremo anche se è per 7-8 magari già da martedì che magari è un qualcosa di niente ma se è un qualcosa e dobbiamo perderlo per due partite deve stare tranquillo perché poi ce lo ritroviamo quindi dobbiamo lasciarlo sereno e quindi insomma valuteremo comunque con i dottori Pippo Gatto squadra in forma superba appunto che sta stretto nonostante l'uomo in meno un buon viatico per il primo spareggio di martedì prossimo sì sì noi dobbiamo guardare gara dopo gara è vero quindi già pensiamo alla prossima la squadra sta bene perché il prof conosciamo bene il nostro prof io come lavoro di staff dopo la sosta abbiamo insomma pensato molto al rascio finale che per noi è fondamentale quindi se oggi i ragazzi hanno fatto una grossa prestazione in merito del mio staff del prof e del mio staff Emanuele Garbato e Martina Milia salve mister oggi la squadra ha messo alle strette ha dimostrato di avere grande anima e senso del gruppo per graffiare maggiormente in zona gol in cosa deve migliorare la sensazione è che la base di sia ottima ma manchi l'ultima rifinitura questo è Garbato Milia punta i suoi uomini hanno certamente dimostrato una prova di coraggio non indifferente ma il fattore gol rimane comunque il tolone d'Achille di questa squadra che non può più accontentarsi di pareggiare ma oggi la squadra ha creato in 11 contro 11 ha creato e magari resti in 11 e riesci a creare di più e comunque non è che tutte le palle golle puoi mettere sempre dentro quindi si stava lavorando per cercare il gol quindi la prima la seconda la terza magari andava a buon fine poi ha preso un palo anche in 10 e quindi a me non preoccupa questo Fausto Nardi grande prova di carattere grande Anzulas il colpo di testa di Giozzi il pato di Sciaudone contro una sola vera parata di Falcone il Cosenza è in credito con la fortuna è d'accordo? Sì anche l'occasione deviata su un bacoco il primo tempo il cross di Crecco che se non gliela deviava era solo e la spingeva in porta sì ma sono componenti che fanno parte nello sviluppo insomma nello sviluppo di una gara e comunque ripeto adesso è fondamentale già pensare alla prossima ho già la testa al Vicenza e quindi già sul pullman lavoreremo per preparare la prossima Roberto Barbarossa la prova di carattere che tutti chiedevamo da tempo ora servono continuità e un cambio di passo immediato pensa che la squadra sia in grado di farlo? Sì sì assolutamente dobbiamo guardare gara dopo gara continuare con questo spirito abbiamo ritrovato il coraggio di giocare a calcio e quindi adesso voglio che i ragazzi non perdono questo coraggio e mettono in campo questo cuore che ce ne hanno tanto salutiamo Filippo Veltri che parla dell'espulsione non la concepisce e diciamo sempre forza lupi forza lupi sempre